La fede è un dono dello Spirito Santo e sono soprattutto le donne a trasmetterlo. Lo ha sottolineato Papa Francesco, celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria dei Santi Timoteo e Tito. Commentando in particolare la seconda lettera di San Paolo al discepolo Timoteo, il Pontefice ha ribadito che la fede non si negozia secondo le opportunità che vengono e che deve essere custodita ogni giorno. Se noi non abbiamo questa cura ogni giorno di ravvivare questo regalo di Dio che è la fede, ma la fede si indebolisce, si annacqua, si finisce per essere una cultura. Sì, sì, sono cristiano, sì, sì, una cultura soltanto. Ho un agnosi, una conoscenza. Sì, io conosco bene tutte le cose della fede, conosco bene il Catecismo, ma come tu vivi la tua fede? E questa è l'importanza di ravvivare ogni giorno questo dono, questo regalo. Di farlo vivo. Sì, io conosco bene il Catecismo,